Buonasera, benvenute e benvenuti all'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura è il resoconto dell'emergenza coronavirus. Nella giornata odierna sono 44 i tamponi risultati positivi in Abruzzo, su un totale di 1.231 processati dai laboratori di Pescara, Teramo e Chieti. La percentuale è quindi del 3,5% rispetto a ieri, 7 decessi che portano il triste numero a 253. Jacopo Vorcella. Ieri i positivi erano stati 97, su un totale di 1.113 tamponi, 8,7%. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i 253 pazienti deceduti, più 7 rispetto a ieri. 263 sono i guariti, più 8 rispetto a ieri, di cui 177 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 86 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Del totale dei pazienti, 321 più 2 sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 41 meno 2 in terapia intensiva, mentre gli altri 1.609 più 29 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 233 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Monaracuila, 566 alla ASL Lanciano-Vastocchieti, 1.071 alla ASL di Pescara e 617 alla ASL di Teramo. I 44 casi di oggi si riferiscono a 12 alla ASL Lanciano-Vastocchieti, 29 alla ASL di Pescara e 3 alla ASL di Teramo. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 27.016 test. Sono 11 tamponi positivi a Casoli, dove l'ospedale però non presenta alcuna criticità, come spiega al microfono di Paolo Renzetti il sindaco Massimo Tiberini. Sindaco, qual è la situazione a Casoli per quanto concerne l'emergenza coronavirus? Per quanto riguarda l'emergenza noi abbiamo 11 casi conclamati, di cui 6 in ospedale e 5 in residenza domiciliare. Focolai che sono venuti dagli ospedali fondamentalmente ed è proprio per questo che dobbiamo avere percorsi molto separati tra Covid e non Covid. Di qui la cittadinanza sta rispettando veramente con semplicità e con correttezza le ordinanze regionali, le disposizioni nazionali. Noi siamo consapevoli di questa situazione di emergenza che deve essere rapportata con responsabilità. E i cittadini di Casoli, li voglio ringraziare pubblicamente, si stanno comportando a dovere. Il nostro presidio sanitario è a servizio della cittadinanza e dell'intero territorio. Non abbiamo ad ora casi attivi sul PTA del territorio. Anzi, vi posso dire che nell'anno 2019 abbiamo erogato circa 172 mila prestazioni tra PTA e distretto sanitario di Basso che sommati anche al distretto sanitario di Lama dei Peligni e di Torricella Peligni arriviamo a circa 250 mila servizi per i cittadini. E' proprio per questo che noi siamo consapevoli che siccome le altre patologie non passano dobbiamo potenziarli questi presidi territoriali affinché si possa dare risposte alle altre patologie che diventano più complesse e diventano più aggressive nel momento in cui c'è la prestazione Covid separata dalla prestazione non Covid che deve rimanere separata. I giorni scorsi i 24 sindaci del compressorio della Val di Sangro hanno inviato una lettera, una lettera aperta a denti di istituzioni per chiedere cosa, sindaco? Sicuramente per dire che non è il momento di fare polemiche, non è il momento di contravvenire. Ci sono stati degli errori e ci saranno sempre degli errori di scelte, ma adesso siamo in un momento di straordinarietà, non stiamo affrontando l'ordinario. Non possiamo programmare le attività sanitarie ordinarie in un periodo di straordinarietà. Ed è proprio per questo che noi abbiamo voluto parlare a cuore aperto un po' a tutti e sapere che bisogna fare un lavoro di squadra, che bisogna rispettare chi ha l'onere del comando e allo stesso tempo poter rispondere a questo momento straordinario, a questa pandemia con strumenti straordinari. Poi ci sarà il momento in cui bisognerà riprogrammare e nella riprogrammazione abbiamo capito qual è l'importanza dei presidi ospedalieri, abbiamo capito qual è l'importanza del territorio, abbiamo capito dell'importanza delle specificità e abbiamo voluto dire questo. Oggi rispondiamo all'emergenza, domani programmiamo le responsabilità e programmiamo soprattutto i bisogni dei cittadini. Il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, firma l'ordinanza sul centro anziani Santa Maria. Test molecolari su tutti gli operatori e stoppa, visite e nuovi ospiti. È ormai chiaro che all'interno della residenza per anziani in Santa Maria di Atessa si è sviluppato un focolaio di Covid-19. Secondo gli ultimi dati a disposizione sono infatti 20 casi positivi, la metà delle persone, tra ospiti e operatori che gravitano sul centro. Il numero include anche le due persone decedute nelle scorse settimane, mentre si è in attesa dell'esito del test su un terzo ospite venuto a mancare lo scorso 10 aprile. Un dato definito allarmante dal sindaco Giulio Borrelli che per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica ha emesso un'ordinanza che dispone il test molecolare su tutti gli operatori, vieta l'ingresso di visite e nuovi ospiti nella struttura. Inoltre, a conclusione della propria attività lavorativa giornaliera, l'operatore deve in via preferenziale per notare nella stessa struttura di lavoro. Ho emesso un'ordinanza sulla base delle informazioni e della relazione che ci hanno trasmesso in asse dei carabinieri perché il personale è libero di muoversi, di entrare e di uscire, naturalmente a fine turni torna a casa, può andare in giro nei propri comuni di residenza e siccome lì c'è un focolaio il rischio che il contagio dall'interno della struttura si trasmessa all'esterno c'è. Siccome su questo non sono state prese particolari misure, nell'ordinanza ho dato alcune indicazioni che riguardano non solo ribadire e rafforzare tutte le misure che già sono in vigore e che la cooperativa che gestisce il centro sta applicando, ma delle misure aggiuntive in via precauzionale che riguardano il personale. Si dice che innanzitutto dovrebbero se possibile rimanere e scegliere di rimanere anche dentro la struttura, lì tra l'altro ci sono posti e c'è spazio perché è certificato e sono autorizzati per 47 posti letto e gli ospiti attualmente ricoverati sono 21, ma se questo non è possibile la ASL o i proprietari della struttura possono scegliere altra residenza, alberghiera dove possono stare il personale una volta finito le ore di lavoro oppure se vanno a casa usare tutte le precauzioni possibili e fare solo il percorso da casa al centro, evitando in questo momento fino al 3 maggio, fino alla data di scadenza del provvedimento governativo che in pratica impone certe prescrizioni su tutto il territorio nazionale e quindi anche sul nostro, fino al 3 maggio dicevo di limitarsi a fare i percorsi strettamente indispensabili per raggiungere il posto di lavoro. E adesso un grottesco caso di cronaca, per tre giorni figura nella lista delle persone decedute per Covid, stilate dalla ASL e diramate dalla governance regionale sull'emergenza coronavirus nella realtà ma sta bene ed attualmente è negativa, ha chiarito il giallo della 92enne residente in provincia di Teramo che è stata trovata positiva nella clinica privata San Raffaele di Sulmona, interessata da un focolaio con decine di contagiati tra pazienti, ospiti e operatori è data per morta dopo il trasferimento all'ospedale di Chiedi dove è ancora ricoverata ma in buone condizioni alla base dell'incredibile vicenda, come sottolineato da fonti del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale dell'Aquila un'errata comunicazione alla ASL da parte dei vertici della Casa di Cura, convenzionata con il sistema sanitario regionale specializzato nella riabilitazione. Una volta scoperta la bella notizia, l'ASL ha aggiornato i dati l'anziana era stata trasferita all'8 marzo a Sulmona da Bergamo dove chiariscono ancora fonti sanitarie il 3 marzo aveva fatto un tampone, risultato negativo. Ci siamo resi conto che siamo stati male informati in questo periodo di grande emergenza le comunicazioni non sono sempre scritte, a volte arrivano verbalmente in questo caso la notizia l'abbiamo ricevuta direttamente dal direttore sanitario della clinica privata spiegano dal Dipartimento di Prevenzione. Ci dispiace per il disguido, continuo appunto il Dipartimento di Prevenzione, ci dispiace per il disguido, siamo felici per l'anziana Per una volta c'è un lieto fine in questa autentica battaglia giornaliera contro il coronavirus Ma adesso cambiamo argomento, una governance nuova dovendo partire da zero risponde così alle critiche arrivate negli ultimi giorni sulla gestione dell'emergenza da parte della sanità abruzzese il referente regionale, dottor Alberto Albani Vediamo il servizio Abbiamo messo a punto una governance del sistema partendo praticamente da zero non esistevano di fatto procedure già codificate, oggi però a quasi due mesi dall'inizio dell'emergenza credo sia importante tracciare un piccolo bilancio A parlare il dottor Alberto Albani, referente regionale per le maxi emergenze sanitarie che da fine gennaio sta guidando la task force regionale sulle covid-19 Capisco che la situazione contingente possa portare ad avere una certa percezione della realtà dice Albani, ma è opportuno ricordare che la regione è intervenuta tempestivamente con specifiche ordinanze su molteplici fronti che si sono aperti in queste settimane a partire dalla sospensione delle attività ambulatoriali e di tutte le prestazioni sanitarie non urgenti e poi anche e soprattutto l'individuazione e l'allestimento dei presidi ospedalieri dedicati alla gestione dei pazienti contagiati Dall'inizio dell'emergenza ad oggi le aziende sanitarie hanno ricevuto 16.520 mascherine FFP3 214.380 FFP2 261.017 mascherine chirurgiche 111.400 guanti 46.700 cuffie 7.340 tute 127.700 calzari 6.643 occhiali 4.086 camici 1250 termometri 2.050 visiere 144.000 litri di gel igienizzante e poi ancora 44 ventilatori e 323 monitor questo per ribadire conclude Albani che il sistema Abruzzo c'è ed è efficiente e ne fanno parte tanti validi professionisti in campo per combattere il Covid-19 alle polemiche di questi giorni e di queste ore risponde anche l'assessore alla sanità Nicoletta Veri fortunatamente le critiche strumentali dice l'assessore non hanno il potere di modificare i risultati concreti che ogni giorno raggiungiamo nella gestione della pandemia Veri non nega che ci siano state delle falle ma dice non si può accusare la Giunta se in alcuni ospedali specie nella fase acuta dell'aumento dei positivi si siano registrati contagi in diversi reparti è un attacco odioso continua Laveri perché tutti ormai sanno che non c'è alcuna certezza che un ricoverato senza sintomi che arrivi in ospedale in urgenza sia negativo al virus giocano un ruolo importante le informazioni fornite dallo stesso e dai suoi accompagnatori al momento dell'accettazione forse chi ci critica non si è accorto che gli ospedali abruzzesi non sono chiusi continua Laveri e che continuano a ricoverare centinaia di persone ogni giorno per patologie diverse dal Covid lo stesso fanno le strutture residenziali assistenziali e sociosanitarie per le quali sono state rafforzate misure di sicurezza sanitaria e relativi controlli sulla questione dei tamponi Veri ha precisato che ogni giorno si è spiegato il perché non tutti i tamponi vengano processati con la stessa tempistica e chiarito perché si è scelto di individuare alcuni ospedali Covid e non altri le ragioni della realizzazione dei nuovi Covid hospital per la fase 2 e si sta cercando di risolvere anche la questione delle indennità aggiuntive del personale sanitario Un tentativo di deregulation a beneficio dei privati l'accordo con le cliniche è pieno di criticità e va immediatamente rimodulato e questo il duro attacco sferrato dal sindacato dei medici a Nao Abruzzo all'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri alla maggioranza di centrodestra che governa la regione in merito all'ordinanza del presidente della giunta regionale Marco Marsiglio di Fratelli d'Italia con la quale si nomina il coinvolgimento della sanità privata nell'emergenza coronavirus noi abbiamo intervistato il segretario aziendale dell'Aquila Loreto Lombardi noi diamo inizio con questo a una deregulation del sistema che poi può non essere controllabile più nel futuro cioè nel senso che togliere o eliminare anche temporalmente alcune regole possono poi queste regole rimanere nel tempo come spesso succede in Italia Per Loreto Lombardi medico dirigente dell'ospedale dell'Aquila e rappresentante della Nao Assomed l'accordo che la regione ha messo in piedi con la sanità privata abruzzese è un vero e proprio salvataggio dei privati la Nao infatti contesta duramente l'intesa e mette in discussione anche il fatto che il coordinamento delle iniziative e del quadro organizzativo delle prestazioni sia riservato al referente sanitario regionale per le maxi emergenze cioè Alberto Albani primario del pronto soccorso di Pescara l'accordo è stato fatto senza né sentire i direttori generali le direzioni strategiche quindi è calato dall'alto venerdì scorso è stata mandata una lettera ai direttori in cui dovevano nominare la persona che avrebbe firmato questo accordo quindi il direttore generale perde ogni tipo di indipendenza cioè viene completamente esonerato esodorato dalle sue attività c'è poi tutto il capitolo legato alla garanzia di liquidità che la regione ha messo in campo per la sanità privata con le aziende sanitarie locali che dovranno anticipare l'80% del budget mensile anche senza che le prestazioni siano state effettuate la regione dice che queste società possono ristorare questi anticipi durante il corso del 2020 cioè nel senso aumentare i ricoveri quindi DRG quindi i ricavi sopra il detto mensile massimo che viene loro stabilito per legge regionale il discorso è questo è che mantenendo gli stessi posti letto lo stesso personale come faranno le case di cura ad aumentare i DRG mantenendo soprattutto la stessa qualità il servizio sanitario nazionale in questo caso quello regionale non può certo fare da banca nel senso che noi dobbiamo dare salute altre criticità sono legate al pagamento aggiornata di degenza per pazienti covid-19 da 250 a 1100 euro se il paziente è in terapia intensiva all'abbattimento dei ricoveri per patologie non covid del 15% se sanitari del servizio nazionale andranno a lavorare nelle cliniche per tutti questi motivi la NAO che non si dichiara contraria ad una integrazione fra pubblico e privato chiede che i sistemi però non siano messi in competizione e pertanto che l'accordo da poco sottoscritto venga rimodulato questi 16 milioni di euro che la regione ha messo a disposizione che sono in questo accordo magari potevano essere ripartiti in maniera diversa e in parte quota parte riversati anche sul sistema sanitario pubblico che in questo momento comunque ha dovuto sopportare tutto il carico o gran parte del carico dell'emergenza il sistema sanitario pubblico in questo momento è quello che ha fatto argine tra virgolette in Abruzzo perché ve l'ho detto una situazione disastrosa come quella lombarda non c'è stata anche se a Pescara momenti di criticità importanti ci sono stati però la sanità privata deve essere una sanità diciamo che non va in concorrenza con il pubblico perché se no avremmo due macchine una 500 e una Ferrari che si apprestano a fare una gara su strada nelle quali la Ferrari è certo la casa di cura privata perché le case di cura privata non hanno le stesse spese che ha un ospedale come uno può ben capire non hanno pronto soccorso non hanno tutta una serie di strutture che invece noi abbiamo quindi se li mettiamo in competizione dal punto di vista economico in riduzione dei costi sicuramente vince la casa di cura privata cioè la Ferrari noi siamo una 500 forse anche meno dieci ospiti della casa di riposo di via del santuario a Pescara su disposizione del referente regionale per le maxi emergenze sanitarie Alberto Albani e dell'assessore alla salute Nicoletta Verì sono stati trasferiti in un hotel cittadino gli ospiti tutti ultra ottantenni e tra i quali ci sono una suora e una donna di 103 anni non sono contagiati da covid-19 e sono stati precauzionalmente allontanati dalla struttura assistenziale per evitare contatti con altri ospiti invece risultati positivi al virus e rimaniamo a Pescara consegna dei lavori questa mattina alla Omnia Servizia la società della holding che fa capo all'imprenditore Antonio Colasante che si è giudicata all'appalto per la realizzazione del covid hospital di Pescara nell'ambito della procedura indetta con urgenza dalla regione Abruzzo vediamo Sindaco Masci dalle parole ai fatti consegnati questa mattina i lavori per il nuovo ospedale covid di Pescara sì io in maniera scherzosa ho detto che non c'erano tecnici svizzeri però siamo arrivati lo stesso ad un risultato veramente eccezionale perché in pochi giorni abbiamo messo in piedi una task force che ha lavorato per far sì che un progetto del genere potesse essere approvato dal ministero della protezione civile potesse essere finanziato e adesso sono stati consegnati i lavori e nei prossimi 15 giorni vedremo i fatti i primi 30 posti letto poi 50 entro un mese e a seguire 214 posti letto a disposizione di Pescara a disposizione della provincia dell'Abruzzo perché questo sarà un punto covid-19 che rimarrà per sempre non sarà smontato alla fine dell'emergenza e questa è la cosa positiva e forte che ha fatto sì che il ministero approvasse il progetto unico in Abruzzo e uno dei pochi in Italia che è stato approvato Per l'azienda Colasante è un motivo d'orgoglio di partecipare e contribuire alla costruzione di questo ospedale covid a Pescara? Assolutamente sì appena abbiamo ricevuto l'avviso di partecipazione alla gara abbiamo immediatamente sposato questa causa in primis per il valore per il valore sociale dell'opera quindi che sarà un'opera a servizio di tutti gli abruzzesi sarà sicuramente un vanto per l'Abruzzo oltre che una sicurezza e una garanzia per la popolazione l'unica difficoltà è il tempo il resto le lavorazioni le conosciamo bene è il nostro mestiere quindi sono lavori che abitualmente facciamo quotidianamente l'elemento nuovo la difficoltà unica è il tempo quindi realizzare quello che facciamo abitualmente con dei tempi notevolmente ridotti quindi questa è l'unica sfida iniziamo più o meno con una cinquantina di risorse che si aggiungono alle risorse che già sono presenti in ospedale perché parallelamente facciamo anche il servizio di manutenzione già siamo impegnati in altri lavori presso la ASL quindi sono cinquanta risorse aggiuntive alle credo se non ricordo male una trentina alle trenta trentacinque risorse già presenti in ospedale per rispettare i servizi ordinari l'impegno è di realizzare i primi posti tra 20 giorni si aspetta soltanto l'ufficialità ma sembra che la zona rossa in area vestina abbia le ore contate di questa scelta non tutti i sindaci sono contenti è il caso ad esempio del primo cittadino di Civitella Casanova per il quale una riapertura adesso vorrebbe dire vanificare gli sforzi fatti in questo mese intanto nella Valfino si va verso la proroga delle misure restrittive vediamo c'è molta attesa nell'area vestina per la decisione del presidente dell'aggiunta regionale Marco Marsiglio sulla zona rossa infatti tra oggi e domani il governatore regionale una volta letta la relazione epidemiologica dell'asle di Pescara dovrà decidere se prorogare o no la zona rossa anche se voci di corridoio già danno per certa la reavoca della zona rossa per quanto riguarda l'area in provincia di Pescara i comuni che attendono la decisione sono quattro dato che il comune di Picciano è già fuori dalla cintura sanitaria da una settimana ma anche qui si attende l'esito di nuovi 20 tamponi ma i pareri dei sindaci per ora sono discordanti da una parte ci sono Montebello di Bertone e Farindola che vorrebbero ripartire per dare la possibilità alle tante attività agricole presenti di non veder vanificato il restante anno di lavoro se nel primo comune è stato registrato un solo caso di positività nell'ultima settimana nel secondo ad oggi si contano solo pochi casi in isolamento domiciliare chi non si sbilancia più di tanto è l'amministrazione comunale di Penne i casi accertati sul territorio comunale ad oggi sono 114 con la curva dei contagi scesa nei giorni ma che continua a preoccupare non fosse il fatto che molti residenti sono ancora in attesa del risultato del tampone chi invece è fermo sull'idea di non uscire dalla zona rossa è il sindaco di Civitella Casanova Marco D'Andrea il primo cittadino spiega come questo non sia il momento di vanificare tutto lo sforzo fatto finora io ho già comunicato la mia opinione la mia opinione è quella di rimanere ancora in zona rossa perché siamo entrati con circa non mi ricordo bene però no 12-15 casi ora siamo a 33 molto probabilmente potremmo ancora peggiorare quindi per me è necessario rispondere anche almeno una settimana per non vanificare insomma tutti gli stessi chiaramente quello che dico per noi è un disagio un disagio perché siamo giusti nei nostri confini insomma viviamo quotidianamente la difficoltà di ogni singolo movimento di ogni singola libertà per lo sforzo che è dovuto per la salute pubblica al momento si resta in attesa così come si resta ancora in attesa per l'avvio dei tamponi alla popolazione ma adesso l'unica parola che esce dal coro in maniera unanime è sostegno un sostegno da parte della regione e dello stato per cercare in qualche modo di far ripartire tutta la macchina economica e sociale dell'area discorso diverso per la Val Fino dove si va verso una nuova proroga della zona rossa ancora cronaca un uomo di 47 anni è stato rinvenuto nel pomeriggio senza vita all'interno di un'abitazione in via Ringa a Penne il 47enne non rispondeva al telefono e così sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che sono entrati in casa trovando il corpo senza vita dell'uomo sul posto anche i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo sul posto i carabinieri della locale compagnia che stanno ricostruendo l'accaduto sul corpo ad un primo esame non sarebbero presenti segni di violenza ma per il momento non si esclude nessuna ipotesi è stato pubblicato sui siti della presidenza del consiglio e del ministero della salute il bando per identificare l'azienda che fornirà al governo il kit per i test sierologici c'è tempo fino al 22 aprile per partecipare alla gara il 29 sarà sottoscritto il contratto di fornitura i risultati dei test sierologici e l'utilizzo di una app per il cosiddetto contact tracing rappresentano due passaggi essenziali per la definizione della fase 2 cioè quella nella quale il governo procederà all'allentamento delle misure del lockdown e alla ripresa graduale di alcune attività proprio questa mattina il commissario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri ha sottoscritto e pubblicato il bando che mette a gara con procedura semplificata e di massima urgenza l'acquisto di kit reagenti e consumabili per l'indagine sulla diffusione della malattia da covid in Italia tutte le aziende che hanno approntato kit per gli esami sierologici sono invitate dunque a partecipare al bando e avranno tempo da oggi fino al 22 aprile per presentare la propria offerta in formato pdf all'indirizzo PEC presente sul bando pubblicato sui siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute già il 29 di aprile il commissario sottoscriverà il contratto di fornitura con l'azienda vincitrice sulla base della scelta di un'apposita commissione esaminatrice all'interno della quale ci saranno tra gli altri due componenti designati dal Comitato Tecnico Scientifico tra i requisiti principali come ripetuto dagli esperti in questi giorni c'è la necessità che i test abbiano livello di sensibilità e specificità tali da abbattere in maniera decisa il rischio di definire falsi positivi e falsi negativi il test sierologico verifica se nel sangue della persona sono presenti quegli anticorpi che il sistema immunitario ha dovuto sviluppare per difendersi e poi sopraffare il virus e i margini di errore vanno ridotti va detto che il kit che sarà utilizzato tramite questo bando servirà per sviluppare una indagine epidemiologica e quindi avere il quadro della diffusione nella popolazione del SARS-CoV-2 basandosi su un campione di 150.000 persone selezionato con l'ausilio di Istat in tutto il paese e diversificato per genere e sei fasce di età una gara che invece si è già conclusa è quella della app di contact tracing ovvero di localizzazione dei contagi se l'ha giudicato una società di Milano la Bending Spoons il nome dell'applicazione è Immuni e risponde ai requisiti fissati la volontarietà la riservatezza dei dati e l'utilizzo di tecnologia bluetooth segnalerà alle persone se nei giorni precedenti è stata a contatto o nelle strette vicinanze di un individuo che poi è stato diagnosticato covid positivo in attesa che venga testata in alcune regioni è già chiaro che la app sarà efficace solo se sarà scaricata sugli smartphone del 60% degli italiani al centro del dibattito pubblico in questi giorni è la cosiddetta fase 2 la fase della ripartenza ma intanto il coronavirus continua a provocare danni anche all'economia tra i settori più colpiti in Abruzzo quello del vino il vino appresta i cuori e alla passione li fa più pronti così scriveva il sulmonese Ovidio oltre 2000 anni fa la tradizione vinicola abruzzese è antica e invidiata ma oggi trema davanti al coronavirus il settore del vino infatti in Abruzzo è uno dei maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria a pesare sulla mancata vendita del vino la chiusura forzata di alberghi agriturismi bar e ristoranti in Italia e all'estero una dura prova per le oltre 18.000 aziende abruzzesi l'Abruzzo produce ogni anno 4 milioni e mezzo di quintali di uva e oltre 3 milioni di ettolitri di vino nel 2019 l'export era cresciuto di oltre il 2% per un valore di quasi 200 milioni di euro ma ad oggi risultano cancellazioni degli ordini anche del 100% i dati di Cantina Italia pubblicati settimanalmente dall'ICQRF mostrano con evidenza che il trend delle giacenze di Cantina da un mese a questa parte deve destare allarme a rischio il ciclo produttivo del vino se i viticoltori non riusciranno a far fronte alle spese è per questo che Coldiretti chiede misure urgenti tra cui emissione di liquidità sotto forma di prestiti a lunga scadenza a tasso zero garantiti dallo Stato come mai prima nella nostra storia recente la vitivinicultura abruzzese ha bisogno che il proprio assessorato gli tenda la mano è necessario pertanto un piano salvavigneti che permetta ai nostri agricoltori che continuano quotidianamente a lavorare alla produzione della prossima campagna ormai imminente di avere la garanzia di un reddito dignitoso tra le misure chieste da Coldiretti anche la vendemmia verde ovvero una sorta di freno ecosostenibile alla coltivazione intensiva così da evitare un eccesso dell'offerta e poi la distillazione volontaria col fine di produrre alcol disinfettante per usi sanitari misure quali vendemmia verde o distillazione volontaria devono essere colte in quanto sono un'opportunità vanno indubbiamente riscritte le regole del gioco per evitare delle speculazioni e delle tensioni sui prezzi a ribasso che andrebbero a danneggiare una situazione già gravemente compromessa E ora lo sport dopo la redazione del protocollo da parte del comitato medico scientifico della Federcalcio il presidente del Pescara Daniele Sebastiani torna a parlare dell'eventuale ripresa dell'attività agonistica con un'intervista al sito Tutto Mercato Web per i club di Serie B dice il massimo dirigente Biancazzurro non sarà facile rispettarne le prescrizioni ascoltiamolo In Serie B c'è già chi muove i primi passi verso il ritorno in campo il frosinone del presidente Stirpe ha fatto sapere con comunicato ufficiale che in ossequio alle prescrizioni del DPCM del 10 aprile le attività della prima squadra riprenderanno da lunedì 4 maggio salvo diverse indicazioni In settimane il comitato medico scientifico della Federcalcio ha stirato un protocollo che fissa le linee guida per la ripresa degli allenamenti e dell'attività agonistica una versione ancora modificabile a seguito di eventuali osservazioni prima della sua finalizzazione e consegna ai ministri della salute e dello sport Intanto molti presidenti e dirigenti continuano a interrogarsi sulla fattibilità di esecuzione del protocollo soprattutto per molti club professionistici non di Serie A Da un lato la voglia ma anche la necessità di tornare in campo dall'altra la convinzione che la salute viene prima di tutto Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani sabato scorso aveva detto chiaramente vogliamo tornare in campo solo se saremo in condizioni di sicurezza ed in una recente intervista al sito Tutto Mercato Web è tornato sull'argomento e sul protocollo che dice Sebastiani dal punto di vista medico non fa una grinza è giustissimo ed è stato fatto da personalità importanti che sanno che quarantena e distanziamento sono l'unico modo per evitare contagi ma è di difficile applicazione noi della Serie B dovremmo organizzarci nessuna società credo abbia un centro sportivo con stanze interne vanno trovati alberghi nelle vicinanze adibiti solo ad ospitare tesserati e staff anche i lavoratori dell'albergo stesso prosegue Sebastiani e penso a cuochi ma anche a personale vario dovrebbero rimanere sempre all'interno della struttura credo sia difficile obbligare persone a rimanere lì notte e giorno per 60 giorni ci adegueremo ma dovremo capire come sono i tempi e se non ci sono scadenze perché il problema vero è questo capire se si possono allungare contratti e prestiti di chiarezza ne è stata fatta poca io ho sempre ragionato da sistema mai per i fatti miei fa notare il massimo dirigente del Pescara noi siamo tra le poche realtà che possono permettersi una struttura vicina al centro sportivo dato che ho una proprietà lì accanto in Serie B conclude Sebastiani si trova molta difficoltà di fronte a una situazione così e mentre la Federcalcio fa il possibile per la ripresa dei campionati professionistici di Serie A B e C ha dovuto alzare bandiera bianca per i campionati giovanili e ha disposto la sospensione definitiva del campionato Berretti del campionato primavera femminile e dei campionati organizzati dal settore giovanile scolastico dagli under 18 agli under 13 e questa era l'ultima notizia tutti quanti i servizi che avete appena visto li potete recuperare online sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it il TG6 torna alle ore 23 grazie e buon proseguimento grazie